Grazie Presidente, come già annunciato non c'è, mi grazie per l'appeto del PD, ma è una questione che deve andare a lui, non c'è la necessità di votare un quartier di altro atto, dato che noi il 13 luglio ve l'abbiamo detto, ve l'abbiamo scritto, che gli dice non li potevano dire, non c'è oltre la necessità di dirlo di nuovo, l'abbiamo detto, l'abbiamo dichiarato a microfono, non andiamo a salvare nessuna posizione personale o film o qualsiasi che altra cosa, quindi per quanto ci riguarda, Masquale Pugliet, Consigliere Pugliet, Stefano Bernardo, Nello Cipone, Ludicico, Nandria Capazzo e Ornato e Focio, quel popolo della libertà abbandonano l'altro, grazie. Grazie Presidente, allora, se il Consigliere partiamo dopo di che la parola avrà la sigla, voi.